Io parlo, il palo del matore Coppie fortunate quasi privilegiate Sono 45, tra Modica, Scicli e Ragusa Quelle che sono riuscite nel 2014 a contrarre mutui con la banca per l'acquisto della prima casa La domanda dei mutui è crollata Banche avare e in cerca di garanzie E dura per le erogazioni per l'acquisto della prima casa In tutta la provincia i fortunati che sono riusciti a contrarre mutuo con le banche per l'acquisto della prima casa Sono 180 I dati riportati nel bollettino statistico 2014 è stato pubblicato da Banca Italia Eppure dal 2010 l'andamento delle erogazioni alle famiglie italiane fa registrare un segno positivo a livello regionale La Sicilia si colloca al nono posto per totale di erogato in Italia Con una incidenza del 4,43% Nel dettaglio, tra le province siciliane, la provincia di Ragusa ha erogato volumi per 18 milioni di euro Ha fatto peggio solo la provincia di Trapani che ha erogato volumi per 16,8 milioni di euro Il ticket medio nazionale si è attestato a 107 mila euro